Ciao a tutti, dopo aver visto ormai qualche mese fa l'installazione di questo videocitofono arriva oggi la recensione ufficiale e mi scuso magari per l'eccessivo ritardo oggi quindi vediamo il Philips Welcome iConnect Pro vediamo come funziona, come si comporta e vediamo quali sono le due figate di questo citofono ovvero una la vedete qua ed è questa, è un tag NFC che sostanzialmente sostituisce la chiave per aprire il cancelletto e l'altra la vedete qua, è un telefono, perché c'è un telefono? perché con questo videocitofono ogni volta che qualcuno citofona ci arriva una chiamata sul nostro smartphone anche se non siamo a casa e quindi con questa cosa noi sostanzialmente non perderemo mai una citofonata ed è veramente una cosa fenomenale perché funziona veramente bene la gestione del menu l'avevamo già intravisto durante il video dedicato all'installazione e tra l'altro vi ricordo che se avete bisogno di qualche informazione relativa all'installazione al contenuto del pacchetto vi metto in descrizione qui sotto il link relativo a quel video che vi dà tutte le informazioni del caso qui abbiamo sostanzialmente l'unità interna che devo dire esteticamente mi piace abbastanza non sporge molto dal muro, ha questo display con diagonale 7 pollici touch che è abbastanza fatto bene, risponde abbastanza bene anche se ovviamente il touch non è equiparabile a quello dei nostri telefoni l'unica cosa ve lo dico subito che non mi è piaciuta è la non possibilità di personalizzare questo viola mi sarebbe piaciuto tanto poter scegliere magari un colore, una tonalità che si abbinasse un pochino di più al muro una sciccheria magari che però all'utente può far piacere qua vediamo che riporta ora e date che ovviamente è possibile personalizzare e 5 icone, la prima ci dà accesso all'unità esterna quindi al videocitofono con delle icone di gestione, quella che per poter imparlare, interagire quella per poter attivare la serratura del cancelletto o del cancello se ce l'abbiamo in questo caso soltanto il cancello oppure abbiamo questo bussante che mi permette di avviare un video in questo caso di 30 secondi e tra pochissimo vedremo perché andiamo, facciamo un passo indietro, abbiamo questa icona che mi permette di interagire con altre unità qualora io avessi un'installazione multi monitor o altri dispositivi è possibile accedervi da questo menu poi c'è il menu delle impostazioni e qua c'è tanto da parlare tra cui appunto quello che abbiamo appena visto ovvero la possibilità di registrare dei video oppure fare delle foto cioè non posso avere entrambi, devo scegliere quindi se io qua selezionassi foto nel momento in cui tornando indietro accedo al videocitofono qui avrei l'icona per fare la foto e non quella per fare i video un'altra impostazione a riguardo è appunto questo ovvero quello che dicevamo nel controllare la rovescia io ho impostato a 30 secondi ma è possibile scendere e selezionare 20 o 10 secondi questa cosa magari la dovete un attimo tarare anche in base alla micro sd installata perché qua sulla destra è possibile andare ad inserire una micro sd quindi magari se la scegliete non troppo capiente e magari siete sempre lì a registrare video o magari avete tante persone che vengono a visitarvi dovete regolare un attimo queste cose scusate torniamo un attimo indietro qua c'è la possibilità di disattivare la suoneria interna quindi creare una sorta di orario di non disturbo magari in fascia notturna non so se qualcuno può interessare e qui c'è la possibilità di andare a inserire una segreteria si registra il messaggio e poi si può attivarla cambiamo menu qua c'è quello che dicevamo ovvero la possibilità di aggiungere altri moduli tra cui telecamere, altri display eccetera e poi molto importante ho saltato un passaggio questa la gestione dei volumi quindi volume la suoneria la scelta della suoneria gestione del volume della suoneria la gestione del volume dello speaker per quanto riguarda l'interfono e poi molto importante questo ovvero la possibilità di regolare la qualità dell'immagine tramite contrasto, colore, luminosità è possibile andare a personalizzare un po' l'immagine che viene trasmessa dalla telecamera e qui devo dire che agendo su questi valori rispetto all'immagine che troverete diciamo di default è possibile andare veramente a migliorare molto la qualità dell'immagine qualità dell'immagine che magari parleremo tra poco qui invece è il menu diciamo dedicato alle impostazioni del wifi qua questo è un codice che ci permette di abbinare al telefono anche questo è un discorso che vedremo tra poco e questa invece è sostanzialmente la possibilità di personalizzare ora e data questo invece niente dicevamo qualità dell'immagine parliamone un attimo magari perché la qualità dell'immagine secondo me è buona non è eccezionale però diciamo che in qualità come oggi che è una bella giornata e non ci sono particolari disturbi sono anche magari adesso particolarmente in controluce però la qualità diciamo se qualcuno arriva l'immagine si veramente si vede molto bene là dove soffre è magari in notturna ma non tanto in notturna quanto quando piove abbiamo fatto di circa due settimane ormai di pioggia abbastanza insistente e si crea all'interno diciamo della lente un pochino di condensa che va a creare un po' di disturbo si riesce sempre a vedere diciamo l'interlocutore però magari in maniera un pochino più difficile devo dire che però a livello di gestione è abbastanza completa ci sono poi due menu che ancora non abbiamo visto ed sono questi due questo è il menu dell'attività che io vado a fare manualmente una volta che abbiamo visto registro video o faccio foto e poi l'altro forse quello più importante è quello che mi permette di vedere tutte le volte che qualcuno è arrivato e ha suonato e in quel caso posso andare anche a visualizzare il contenuto andiamo magari a vederne uno più interessante vediamo se becchiamo qualche corriere no aspetta questi sono vediamo questo ad esempio vedete già qua ok si sentite un po' la suoneria vedete che qua già la qualità dell'immagine non è come l'abbiamo vista prima è un pochino più rovinata appunto per quella quella condensa che si va a creare un pochino vediamo un altro no vediamo ok ok uno degli aspetti sicuramente migliori di questo videocitofono è la sua completezza ovvero il fatto che a tutto quello che abbiamo visto e quello che vedremo tramite la gestione del telefono ha anche i tag NFC ovvero delle sorte di chiavi elettroniche che io posso appoggiare a videocitofono per aprire la serratura del cancelletto molto molto comoda perché mi permette di non avere la chiave con me basta semplicemente questo per aprire il cancelletto e poi c'è l'utilizzo appunto dello smartphone molto molto utile qualora non siamo a casa perché nel momento in cui qualcuno suona mi arriva la notifica, la chiamata sullo smartphone e io da lì posso interagire con il telefono sostanzialmente l'ho trovato veramente utile almeno in un paio di occasioni mi è capitato di utilizzarlo nel concreto per ricevere dei pacchi ed è stato molto semplice va detto che è possibile installarlo su più telefoni però soltanto chi arriva per prima ovviamente può accedere al canale l'altro invece lo troverà sostanzialmente occupato e quindi se magari siete in più a utilizzarlo è giusto saperlo però adesso vediamo anche l'utilizzo dello smartphone e per cui continuiamo a parlare perché sono tante le cose da dire vediamo ora il funzionamento dell'app che si chiama Philips Welcome Eye Pro quella con l'icona grigia e non con l'icona viola questo lo dico perché inizialmente avevo qualche problema di abbinamento ed era dovuto al fatto che avevo scaricato l'app sbagliata quindi se avete il Connect Pro scaricate questa versione una volta lanciata l'app abbiamo questa interfaccia di base con il più in alto a destra abbiamo la possibilità di aggiungere il dispositivo che sia una prima installazione o un dispositivo già connesso nel caso ci compariranno qui qua sotto invece abbiamo quattro menu questo sostanzialmente ci dà l'accesso ai videocitofoni questo è il menu dell'attività e ci dice sostanzialmente le informazioni di quando è stato premuto e se c'è stata interazione quindi con campanella verde o campanella rossa la rotellina degli ingranaggi è semplicemente la versione installata e questo invece è l'album abbastanza importante perché qui abbiamo le foto e video scattati in tempo reale nel momento in cui noi facciamo così accediamo ai videocitofono e da qua possiamo quindi fare una foto o registrare un video e questa cosa va fatta manualmente non è una cosa automatica che magari la fai in automatico nel momento in cui qualcuno ci suona il citofono questo da qui sostanzialmente sono i video che io ho deciso di fare o le foto che ho deciso di fare torniamo alle videocitofono quindi e qui vediamo anche qua una rotellina degli ingranaggi che ci dà qualche impostazione di base la possibilità di modificare la password o configurare il wifi oppure di attivare le notifiche molto importante poi abbiamo ovviamente la live con la timestamp che ci permette di vedere se siamo appunto in tempo reale qua vediamo che ad esempio l'ora non è aggiornata quindi dovrei aggiornare il fuso orario e poi abbiamo quattro icone sostanzialmente una che ci permette di attivare o disattivare l'audio quella per fare foto o per registrare video l'abbiamo vista quella che ci permette di andare a tutto schermo torniamo indietro e poi abbiamo i due pulsantoni molto importanti questi due questo mi permette sostanzialmente di sbloccare la serratura io attualmente ho soltanto la serratura del cancelletto quindi dovrei inserire la password schiacciare sulla chiave e automaticamente si apre il cancelletto l'unico rammarico secondo me nell'utilizzo che ho avuto in queste settimane è magari il fatto di dover inserire la password e magari non aver pensato all'abbinamento dell'impronta digitale ormai siamo molto abituati all'impronta digitale un po' per tutto e secondo me questa cosa andrebbe magari aggiunta con un aggiornamento software però diciamo che in generale comunque il funzionamento è molto semplice e funziona molto bene l'altra cosa invece molto importante è appunto il pulsante che mi permette di interagire con chi sta fuori quindi questo premio e parla funziona sostanzialmente come un walkie talkie nel momento in cui io premo, tengo premuto e parlo occupo il canale e quindi automaticamente non riesco a sentire dall'altra parte chi sta parlando bisogna fare un attimo di abitudine all'inizio però devo dire che funziona bene ho diciamo avuto due o tre corrieri in questo periodo che mi hanno citofonato e diciamo che non ho avuto particolari problemi questa cosa però magari la vediamo forse un po' meglio da qui perché ovviamente vi ho fatto vedere su questo telefono perché magari è un po' più in grande però qua abbiamo qualche contenuto in più innanzitutto abbiamo i sample che avevo girato in condizioni di luminosità abbastanza difficile per farvi capire un attimo com'è la definizione dell'immagine e devo dire che di giorno si vede discretamente bene di notte anche a patto di rimanere in una determinata distanza l'unico ambito in cui diciamo fa un po' fatica è quando piove abbiamo avuto due settimane quasi pioggia continua quindi è stato messo duramente alla prova perché comunque si crea un minimo di goccioline di condensa all'interno che vanno sostanzialmente a diciamo occupare l'obiettivo però devo dire che comunque l'immagine si vedeva nel senso che vedete anche voi qua sebbene ci siano dei flare sparsi un po' in giro per la camera comunque io riesco a vedere il soggetto vi dicevo voglio farvi vedere questo contenuto perché qua c'era appunto un corriere che era arrivato questo è forse il momento in cui se ne va via questo è invece il momento in cui è arrivato aveva lasciato il pacco vedete? e se ne va e io qua ero riuscito a sostanzialmente interagire intercettare il corriere perché mi aveva chiamato e la cosa bella è che quando qualcuno citofona arriva la notifica sul cellulare quindi io posso automaticamente entrare nell'app per interagire avevo registrato il video e ero riuscito appunto a monitorare un po' l'attività gli avevo chiesto in questo caso di buttare il pacco all'interno e avevo sostanzialmente controllato che andasse via questo è sostanzialmente il funzionamento dell'app che ripeto molto buono nel senso che nel quotidiano funziona veramente bene non ci sono grossi handicap riscontrati l'unica secondo me mancanza in chiave 2020 è appunto il fatto di dover inserire la password piuttosto che magari l'impronto digitale abbiamo quindi visto il funzionamento nella sua globalità di questo videocitofono philips welcome i connect pro è una soluzione molto completa che non costa poco me ne rendo conto però ho dato un'occhiata anche alla soluzione dei competitor sostanzialmente i prezzi più o meno sono in linea se proprio dovessi dare dei pro e i contro vi ricordo che in descrizione trovate il link alla recensione sul blog per cui magari potete leggerli con più calma tra i contro troviamo probabilmente la qualità dell'immagine che abbiamo visto in alcune condizioni magari va un po in sofferenza tra i pro invece appunto il fatto che è facile da installare e poi è veramente completa che ci dà questi bellissimi tag NFC che sono una figata assoluta ma soprattutto la figata ancora più assoluta è il fatto di poter interagire tramite lo smartphone quindi io anche se non sono a casa posso sostanzialmente rispondere al citofono in questo modo non mi perderò mai più una citofonata a casa sostanzialmente se vi è piaciuto questo video mettete like, condividetelo ma soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti